mamma mia ragazzi che emozione sto guidando una 75 nelle otto a carburatori un'emozione più unica che rara madre di dios vorrei far notare la particolarità prima di ripartire guardate che gioiello madre di dios margata roma cerchietto con i contrococommeri e voglia dios questi sono anche veri amici che si vedono ciecamente si riparte ciao 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 ciao